Marco, e allora ti sei trasferito in Francia? Sì, sì, definitivo ormai. Proprio a Parigi? Sì, a Parigi città che ho preso una casetta, bello, bello. Senti, con la lingua come fai? Cioè riesci a capire, voglio dire. Ormai un mese, proprio la padronanza e tutti, provi a chiedere una cosa, se io, provi? Che ti dico? Una cosa. Eh, guarda che carino. Come chiami il gatto in francese? Psss, psss, psss. In Italia?